I comportamenti delle imprese italiane appaiono fortemente eterogenei, come emerge dai dati del nono censimento generale dell'industria, dei servizi e delle istituzioni no profit, illustrati a Milano nel corso dell'incontro check-up delle imprese italiane. Un'occasione non solo per capire lo stato di salute della società, ma anche per illustrare le innovazioni e le peculiarità del censimento delle imprese 2011. Per la prima volta abbiamo fatto da un lato un censimento virtuale, nel senso che abbiamo fatto riferimento ai registri per avere informazioni sulle imprese senza disturbarle un po' troppo. Abbiamo diminuito quindi molto il disturbo statistico e dall'altro però abbiamo anche fatto un'indagine chiedendo alle imprese i punti di forza, i punti di debolezza, i comportamenti e questo fa sì che oggi abbiamo un'informazione assai ricca da dare sia alle imprese stesse sia alle autorità politiche per una migliore istruttoria dei comportamenti e delle azioni da fare. Davvero mi pare un contributo rilevantissimo. Una delle soluzioni più stimolanti fra quelle prospettate è sicuramente quella dell'internazionalizzazione. Su questi dati devo dire che forniscono un quadro molto stimolante. Abbiamo contato oltre 200.000 imprese, quindi imprese di tutte le dimensioni presenti sui mercati internazionali e abbiamo individuato con precisione i fattori di competitività di quelle più piccole che hanno difficoltà chiaramente ad accedere a mercati lontani ma comunque hanno una presenza. Il censimento delle imprese 2011 si è distinto per le innovazioni proposte rispetto al 2001, non solo riguardo la complessità delle attività di rilevazione condotte ma anche per le novità contenutistiche. I contenuti del futuro dell'informazione statistica sulle imprese partiranno dall'esperienza che abbiamo acquisito con questo nuovo censimento, nuovo anche in termini di progettazione, di metodi e di realizzazione. Ne consegue che nei prossimi anni di fatto noi potremo fare già un censimento continuo delle imprese. Abbiamo progettato e pianificato una serie di indagini campionarie a rotazione su temi qualitativi di approfondimento e questo ci consentirà quindi di mantenere l'offerta informativa statistica fortemente basata sulla tradizione che ormai caratterizza il censimento generale delle imprese in Italia. All'incontro ha partecipato anche il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Enrico Giovannini che ha sottolineato l'importanza del censimento per l'elaborazione di politiche pubbliche efficaci. Non esiste un solo tipo di impresa, non esiste un solo settore ma c'è una forte divaricazione tra i comportamenti delle imprese che avendo investito, aumentato la produttività, la redditività, anche l'occupazione riescono a competere sui mercati sia interni che internazionali e invece le imprese che sono in ritardo perché hanno investito poco, perché hanno investito poco in capitale umano, perché hanno un'organizzazione anche un po' vecchia basata su schemi antichi. Questo censimento ci aiuta a capire quali sono i punti di forza, quali punti di debolezza nel nostro Paese e quindi a disegnare meglio le politiche.